cari amici sono monica benvenuti nel mio canale allora in questo video vediamo in che modo ti condizionano i genitori narcisisti come influisce su di te aver avuto da bambino o da bambina dei genitori narcisisti i genitori narcisisti ti possono condizionare non soltanto nella fase infantile e adolescenziale ma ti possono condizionare per tutta la vita e possono produrre effetti che a livello di imprinting lasciano il segno difficilmente si hanno entrambi i genitori narcisisti due narcisisti potrebbero aver procreato ma a causa del loro del loro narcisismo non riusciranno a portare avanti una relazione paradossalmente i genitori narcisisti ti condizionano anche quando sono morti i genitori narcisisti non amano i loro figli oppure li amano come estensione meglio dire che li amano come estensione di loro stessi c'è un amore condizionato il figlio quindi ha la funzione di essere un prolungamento e non viene concepito che possa avere una volontà propria non è un'entità sestante una persona sestante ma viene considerato come se fosse un arto come un braccio o una gamba di cui servirsi è evidente che gli altri che gli arti del proprio corpo eseguono gli ordini seguono la direzione che io gli voglio dare il figlio di un genitore narcisista non acquisisce mai una vera individualità perché fin da piccolo gli viene fatto intendere che non ha un'autonomia infatti viene condizionato sulle varie scelte della vita e difficilmente riuscirà ad essere autonomo il figlio di genitori narcisisti ha molte probabilità di diventare un codipendente e quindi di incontrare altri narcisisti che continuino a condizionarlo come a suo tempo lo condizionavano i genitori se i genitori non sono troppo anziani e sono ancora viventi cercheranno di condizionare anche la scelta del partner quando si manifesterà un partner anch'esso narcisista in quel momento ci sarà un epico scontro tra il genitore narcisista e il compagno o la compagna la madre si contrapporrà alla moglie e il padre al marito il bambino in fase evolutiva teme di avere i difetti del genitore narcisista e avrà il terrore per tutta la vita di incontrare dei narcisisti e rischierà di innamorarsi di persone così se non ha delle informazioni non riuscirà nemmeno ad etichettarli come dei narcisisti una donna che non vorrà innamorarsi di un uomo che ha i difetti del padre poi si ritroverà invece ad innamorarsi proprio di un clone del padre i narcisisti agiscono sui figli innanzitutto somministrando manipolazione sia quella coercitiva sia quella compulsiva in cui recitano il ruolo della vittima o del salvatore il genitore si intrufolerà sempre nelle scelte del figlio anche in quelle sentimentali se al genitore non piace il fidanzato la fidanzata la relazione terminerà se tu volessi conquistare una persona e ti rendessi conto che ha un genitore che appartiene alla categoria dei narcisisti paradossalmente dovresti sedurre il genitore narcisista e l'unico modo l'unico modo per sedurre cioè per piacere a un genitore narcisista è dargli l'idea che sei facilmente manipolabile e che ti farai controllare a suo piacimento come diventerai un suo burattino il narcisista si aggancia proprio al controllo nel momento in cui ti farai recepire come facilmente manipolabile ecco che diventerai il compagno giusto la compagna giusta per il figlio la figlia i narcisisti vogliono crearsi un ambiente di persone che possono facilmente controllare quando entrerai in questa situazione e devi riuscire a venirne fuori quindi devi manipolare a tua volta il tuo compagno la tua compagna per acquisire più potenziale di quanto ne abbia il genitore i narcisisti lasciano un segno devastante perché entrano nella struttura profonda emotiva del bambino e lo rendono come un piccolo robot i figli dei narcisisti li riconosci perché sono come degli automi sono diventano meccanici il narcisista non può amare al canale dell'amore verso gli altri completamente bloccato non saper amare e avere l'esigenza di controllare gli altri impedisce al narcisista di stare bene non vedono via d'uscita ed entrano in situazioni sempre più negative il narcisista non è felice perché non è in grado di sperimentare la capacità ad amare che è una qualità connaturata alla natura umana i suoi meccanismi di difesa sono talmente forti che gli impederanno di avere un coinvolgimento emotivo con gli altri e avrà sempre la sensazione che gli manchi qualcosa è dando che si riceve quando dimostri amore affetto alle persone ne riceverà in cambio il narcisista si sente più appagato controllando le persone ma si ritroverà solo e imploso su se stesso può essere un narcisista il genitore del tuo sesso o del sesso opposto se è narcisista il genitore del tuo stesso sesso tenderai per osmosi di genere ad introiettarne le caratteristiche quindi tenderai a sviluppare dei tratti narcisisti il meccanismo di difesa più facile è quello dell'identificazione quindi se non riesco a sconfiggerti mi identifico con te a quel punto ho vinto segui quindi la strategia che se non riesci a sconfiggere l'avversario ti puoi alleare se è narcisista il genitore del sesso opposto non potendoti identificare e non potendo mettere in atto dei travestimenti a maschio femmina andrai a ricercare una persona con quelle caratteristiche se ci sono più figli i narcisisti ne leggono uno come prediletto e sarà quello che vorrà controllare perché lo vede come più idoneo a diventare un prolungamento di se stesso e raggiungere attraverso il figlio i suoi obiettivi cercherà di controllare anche gli altri ma si concentrerà in particolare su di uno quindi non è detto che tutti i figli assumono delle caratteristiche narcisistiche qualora il figlio prescelto dovesse morire il genitore narcisista inizierà a condizionare un altro figlio che diventerà il suo prediletto e tenderà a dimenticarsi rapidamente del figlio morto ora i narcisisti la solitudine secondo voi che rapporto hanno i narcisisti con la solitudine il narcisista teme la solitudine non nel senso di una mancanza di persone che lo amano ma come una mancanza di persone da condizionare la solitudine quindi per un narcisista coincide con una mancanza di prede un narcisista può diventare schiavo schiava del codipendente per paura di perdere qualcuno su cui esercitare controllo quando non riescono più a controllare nessuno provano un profondo senso di vuoto che è una sensazione molto distrutturante quindi tende a coinvolgersi ma non emotivamente ma come esigenza di controllo devi diventare molto freddo e non farti prendere dalle emozioni perché il narcisista ti distruggerà molto rapidamente il genitore agisce nel lungo periodo e quando la psiche proprio quando proprio quando il genitore agisce nel lungo periodo perché influenza il bambino proprio quando la psiche del bambino è in formazione quindi ancora fragile e si lascerà controllare facilmente oppure può mettere in atto dei meccanismi di difesa e agire in modo logico razionale senza lasciarsi prendere da nessuna emozione puoi uscire da questa situazione di controllo solo se la smetti di sentirti in colpa per quello che avresti potuto o dovuto fare il senso di colpa è un veleno mentale che va eliminato per non coinvolgersi più in situazioni con narcisisti e vivere bene la propria vita bene per questo video mi fermo qui iscriviti al canale se vuoi metti un like condividi il video con i tuoi amici lascia pure i tuoi commenti dimmi tutto quello che ne pensi di quello che ho detto e seguimi sui social sono presente su twitter facebook e instagram tieni attivata la campanella per ogni volta per essere avvisato ogni volta che uscirà un nuovo video io ti ringrazio per avermi ascoltato ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao